Musica Nel prestigioso palazzo Bourbon del Monte, collocato nel centro storico di Sansepolcro, città d'arte ed autore che ha dato i Natali a Piero della Francesca, si colloca a Boca Museum, che con le sue affascinanti sale espositive si caratterizza come un percorso di scoperta delle erbe medicinali attraverso le fonti del passato, erbari e libri antichi di botanica medicinale, ma anche importanti collezioni di mortai, strumenti, ceramiche, vetrerie e arredi. L'antistante giardino dedicato a Piero della Francesca è curato dal museo stesso per mostrare alcune piante medicinali nella loro fase vegetativa. Musica La prima e più importante sala del museo è dedicata al più antico e insostituibile strumento dello speziale, il mortaio. Frutto di non comuni abilità tecniche, spesso artisticamente lavorato, il mortaio ha da sempre forti valenze simboliche per l'arte farmaceutica. Comunemente in uso fino all'inizio del secolo XIX, si è subito dopo trasformato in un ricercato pezzo da esposizione per collezionisti d'arte e per laboratori e farmacie. I pezzi esposti nella sala, molti corredati dal relativo pestello, sono una scelta degli esemplari più significativi delle collezioni del museo. Lungo le pareti sono collocati i mortai in bronzo e pietra di maggior pregio artistico e tecnico. Nella vetrina a muro si possono ammirare differenti tipologie di piccoli mortai, in bronzo, alabastro, legno e avorio. Al centro della sala sono esposti antichi libri che trattano dell'arte del pestare. Musica Dalla porta presso la finestra si accede alla saletta degli erbari, i testi che rappresentano la summa delle conoscenze botanico-medicinali del passato. Si entra qui pienamente nelle specificità del museo, le erbe salutari collocate nella loro dimensione storica. I pannelli della sala fanno da guida in questo viaggio temporale. I volumi scelti per l'esposizione sono fra i più significativi della ricca raccolta della biblioteca antiqua, parte integrante del museo e l'infa vitale dell'istituzione. All'interno degli espositori laterali si possono ammirare erbari e florileggi con colorazioni originali dell'epoca. Musica L'attigua saletta delle ceramiche ci mostra una tipologia di recipienti da farmacia che ha goduto nei secoli di forti valenze artistiche. Brocche, vasi, albarelli, boccali, bottiglie artisticamente decorate sono il frutto di una lunga tradizione specialistica che dal Rinascimento ha visto protagoniste le manifatture italiane, soprattutto in Toscana, Umbria e Romagna. Basti ricordare che una di queste, quella di Faenza, ha dato internazionalmente il nome alla ceramica smaltata, Fayons. Fra i reperti di questa sala sono presenti anche alcune rare bilance metalliche a bracci uguali. Altre sono visibili nella vetrina del pianerottolo a tiguo, alcune corredate da un'interessante serie di pesi. Da notare la serie di pesi impilabili con contenitore bronzeo artisticamente decorato. Grazie a tutti.